Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog Come da promessa Allora, molti mi stanno facendo una critica costruttiva, signor Fius Cosa? Mi stanno dicendo Tony, ma tu hai chiesto 25.000 like per andare in Grecia Le abbiamo raggiunti Hai chiesto 10.000, porta a mangiare ragazzi Le abbiamo raggiunti Io li sto vedendo i like, non vi preoccupate E le faremo tutte queste cose Proprio oggi manterrò la promessa Dei 10.000 like per andare a mangiare Il ristorante a Monteforte Ti porto Sto guardando la partita, dobbiamo andare a mangiare Sì, dobbiamo andare a mangiare a Monteforte Il Pino Cosa si mangia? Tutto a base di carne Vi porto a mangiare la ciccia Scusa, ma se questo video raggiunge i 15.000 mi piace Dove ci vuole? No, Tony, è... Dove devo portare? Non lo so, ci penso Scrivetelo qui sotto in un commento Se vuoi portare Tony Tubo a mangiare Vamos Vi ricordo ragazzi di iscrivervi al canale Se anche voi mangiate Bella Bene ragazzi, siamo arrivati al ristorante Sì Questo parla sempre sul pozzolino E noi siamo arrivati al ristorante Cominciamo con un antipastino semplice Prosciutto mozzarella Guarda qua Guarda qua Mi fa vedere la mozzarella come... Guarda come gode Guardalo, guardalo Poi Peperoni carote Qui invece abbiamo Formaggio, formaggio, fricottina e salame Operio musso Cos'è? Operio musso Operio musso è del maiale crudo Ok? Si mangia con il limone e il sale Abundamus de limon Ed è maiale crudo Andrino, guarda Bello Ah, ah No, non è il caldo eh Eh, l'aglio è troppo buono C'è un vero musso di mia Grazie Sì Non c'è così Senza tagliarlo, vai Comunque mi metto a mangiare due mozzarella E un pochino di pane mi è passato Quindi due Forse è esagerato il creme dei pannelli Ecco, ora faccio un po' Io ho già preso un pezzo di salame Come stiamo vicino alla ricotta E questo Questo qua, benissimo Non mi piace la ricotta Ma faccio ricottare E' arrivato il soffritto E' poi non parla più E' arrivato il soffritto E' poi non parla più Guardatelo qui, ragazzi La metto sopra il pane E' bene bella tonitura ebbè Andrea non lo mangiare non mangiare no fagioli fagiolo alla messitana ragazzi il telefono di tonitura è andato il suo del fagiolo Andrea una patatina al fungo porcino grande patatina fungo porcino se ne sono andati ancora devono arrivare i primi secondo me non hanno più fame soprattutto tonitura allora facciamo un videoclipo musicale ragazzi siamo usciti dal locale perché non vogliamo pagare usciamo senza pagare io me ne vado come quelli fagioli e qual è il problema me lo avvedo io monte forterpino che come potete notare è un paese su una strada c'è una strada e questo è il paese una strada e questo è il paese una strada e questo è il paese bella ragazzi carichi come non mai da fischire oggi ragazzi oggi è il mio occhio alla sorrentina eccolo qua come l'altra volta eccolo qua allora assaggiamo lo gnocco alla sorrentina di Fuse Gamer questo è lo gnocco alla sorrentina di Fuse allora lo gnocco è buono però c'è un problema non sento sorrento sento lo gnocco ma non sento il sorrentino invece è home che è nordico vedete home è nord la fettucina è tonico tonico e sessi guardate invece la serie A di Tony Tubbo signori e signori tu quello che pede è serie A ma perché Tony Tubbo? guardami in serie Omar che mangiano il nostro piatto perché abbiamo preso tre primi e li dividiamo in due vado a trattare buono siamo in due e ne mangiamo siamo in due e ne mangiamo tre ne mangiamo tre ma siamo in due la verità siete uno e mezzo però vabbè lasciamo stare Tony invece tu sei in due ma mangi un primo perché io mangiero la carne e la cinccia io ho due e due primi ho preso siamo grandi a dire a distinto ma al finale chi le mangia di meno e ora i primi sono io bella queste sono le penne di cuagliarella ciao Fabio ciao Fabio capite il caro che tengo le penne di cuagliarella? assaggia questa assaggia Andrea ma che c'è lì? che è? salsiccia? sì salsiccia, profola e fungo porcine ma il tartufo, il tartufo è capitato in luglio sono a Champions League ladies and gentlemen un raviolo al tartufo ma non mi sto abbassando per vedere niente le camera ok madonna sentire l'odore del tartufo mmm super vortice sciatatiello allora guarda come si mace così devi impugnare la forchetta in questo modo come i bambini original Coca-Cola ma tu non piaceva la Pepsi? oh ma a questo piaceva la Pepsi? è coerente di merda vai a cagare tutti i ristoranti di Serie A che avevano visitato Tonitubo nessuno aveva la Pepsi ma tutti i lati da conne eh? 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 come lo spieghiamo questo posto Tonitubo? come lo spieghiamo questo posto Tonitubo? beh, la Pepsi è una sciccheria non ti ce l'ha è come quando tu per esempio vai a prendere vai in un ristorante e dici che champagne avete? mica c'hanno tutte le marche cioè il problema è il ristorante top che fa da mangiare e anche il top col bere come è il top? ma no top del bere è un'altra cosa bella ragazzi carichi come non è mai da Fuse Game oggi ragazzi siamo qui con il tegamino al forno Tonitubo ce l'hai fatta la intro? lo so però è bella quindi la rifacciamo una orecchietta al forno comunque se devo mangiare il secondo me non mi mostro buccia tonetto di pasta islamo essendo appena uscita dal forno bisognava attendere almeno il tempo necessario per il quale questo pasto al tegamino si affreddasse e raggiungesse la temperatura adatta per essere ingurgitato nel nostro sistema ci potevi soffiare sopra? sei un coglione ci potevi soffiare sopra e ragazzi non ho capito il calore poco poco l'hai sentito il calore questa è la temperatura adatta la temperatura ambiente cosa ci consigli? tutte queste queste che ci arrivate è veramente buone questa qual è? la scottura si vede anche l'amarezzatore all'interno invece l'altro è vitello questo è vitello adatto un po' più tenace bello, saporito questo è quello anche della scottura no, 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 lo cambi te facciamo la scottura e poi c'è il vitello che ha tante no, il vitello è bambino facciamo una testa facciamo una testa così assaggiamo tutte le mani vogliamo fare facciamo una, una e una e poi facciamo un misto che le dici? vai, premissi grazie andiamo gli un euro nel programma in vacanza vedi devi andare in vacanza e fa come dice toni tutto tu vai all'aeroporto e dici mi dai il primo volo per Los Angeles lei dice noi ce l'abbiamo parte domani tu dici allora portami in una meta bicicletta no, se tu eri milionario mi dici no lo fai partire adesso no, invece no non ti bisogna essere presunto così devi dire portami in la meta bicicletta che ti porta in Massachusetts no? mi dici ciucciati tu vai in America scendi in America ti dici ti aspetta l'aeroporto te ne vai a Los Angeles e ti vai a far trovare i giorni ma ombrellone ti ho affittato ombrellone le elite fanno paura eh si si mai stato un ombrellone con la serie a Los Angeles ma che cazzo state facendo? allora un ombrellone con la serie a Los Angeles 50 dollari cioè 50 patate non sono stato? è certo è stato a Los Angeles? è certo e perché non hai portato il vlog? perché non hai portato il vlog? perché io le cose le faccio per il mio piacere per il mio benessere cosa ne pensa Antonio? no per fare view su youtube bravo poi ho scoperto quello che mi mangiavo portandolo su youtube faceva views e mi sono detto che hai ci fatto per tre anni a sta parte prendiamo ora il mio momento io dovevo fare il come si chiama? si chiama food blogger food blogger io avevo food blogger oggi siamo al secondo di carne allora questo era un animale che correva per i bufali questo è il bueo questo è il masso questo è il bueo e il masso si ci abbiamo anche il limone buono bravo Tony 51.000 alla pizza si? posso ancora sentire il sangue è stato ucciso quattro giorni fa e te no c'era ragione bene ragazzi carichi come non mai da Fuse Gamer oggi ragazzi siamo qui con il vinello prendere il biscotto dai dicevo cosa tantissimo è il dolce e lo ha dato il dolce ragazzi carichi come non mai da Fuse Gamer inizialacje oggi ragazzi siamo qui con i dolci e io ho preso le palle ho preso le palle Io ho messo la ricotta con la pera Bravo, ricotta e pera Pera e ricotta E pera e ricotta E tu invece Andrea Fusco Fusco, Fusco, Andrea A me da YouTube c'è un po' di babà e anche del cioccolato Siamo grandi e ti stimo Bene ragazzi, la mia penitenza è stata pagata Quindi per i 10.000 like Superati abbondantemente Nell'altro video delle cozze Ho portato i ragazzi a mangiare Qui E ragazzi, se questo video supera i 15.000 mi piace TonyTubo ci porterà in un post a mangiare Dove lo scriverete voi Bene ragazzi, noi ci rivecchiamo al prossimo video Mi raccomando, iscrivetevi al canale Se siete arrivati fino a questo punto Siete obbligati, proprio dalla legge italiana Scrivete hashtag caffè Se siete arrivati fino a questo punto del video Quindi, TonyTubo, vai TonyTubo, regna TonyTubo, regna